Eccoci tornati alla nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 18 dicembre. Come annunciato prima della pausa, siamo a parlarvi di sport. Lo facciamo a partire dalla ternana del Corriere dell'Umbria. Pesano i messaggi di Longarini. Il mondo delle ferie è stato scosso dalle esternazioni dell'amministratore unico che attende risposte concrete, ancora nessuna presa di posizione ufficiale sulle possibilità di cessione della società. Acri, in delegazione con alcuni giocatori all'inaugurazione di un parco per bambini dell'ospedale, resta in silenzio. Ed ecco la bate giolli per il Foligno, in attacco attesa per Padovani. Ieri ufficializzato il terzino classe 1996, ex Rapallo. La punta può arrivare oggi. In difesa piace Feidi, ex oltrepo. La baby sorpresa a Farroni si apre, contro la Voluntas sarà la mia partita. E parliamo di Serie D. Presi Zuppardo e Bartoccini. Gubbio coperta giusta per la trasferta di Viareggio. Probabile esordio per i due ultimi arrivati per Crocetti e Degrassi. Ufficializzati i due, ex Poggi Bonsi. Problemi di abbondanza in attacco per Magi. Sbagliare a metterlo a lezione da Di Loreto. Parliamo di arbitri e arbitraggio. Tante critiche nell'ultimo turno. In promozione debutto da favola per il ventenne del caro. Il fischietto ha corretto un rosso dopo il consulto con l'assistente. E ancora, siamo al volley maschile. Bob Ancovac sembra che ha lasciato davvero un bel ricordo qui a Perugia. Il coach ha colto con calore mercoledì al suo rientro in Coppa Cev. Fiero di essere tornato. La Seer Safety Conad prepara la doppia trasferta. A Verona domenica c'è la prima di ritorno di Superlega. E martedì l'andata dei quarti di Coppa Italia. Perugia, Targa Umbra. Citi Foligno scatenato in prima serie. Battelo, Junior Perugia e vola in testa. Alla classifica e a Santa Maria degli Angeli. Parliamo di calcio a 5 femminile. Angelana in finale di Coppa Italia. È scattata la festa. Battuto il Massa Martana per 5 a 3. E siamo allo sport del inserto sportivo della Nazione Umbria. Parliamo di Perugia a calcio. Vincere per tornare in corsa. Il tecnico Bisoli siamo in un buon momento. Dobbiamo rimediare alle due sconfitte. Sulla formazione Spinazzola c'è ballottaggio, zapata, drolet. E per la Ternana, la Nord risponde. Longarini siamo sempre qui. I tifosi si sentono poco coinvolti. Intanto le fere hanno l'infermeria piena. E per la Serie D, Gubbio rifondato. Ora si punta in alto. Nuova rosa a disposizione di Magi. Liborio Zuppardo al Barbetti da avversario. Da oggi è un giocatore della squadra. E Gubbina, eccolo nella foto. Serie D ancora. Foligno, dicembre amaro. Sotto l'albero del Foligno solo la Bate. Il centrocampista è l'unico acquisto della società. Ma da maschi e arcipreti sono ancora al lavoro. Siamo al volley di serie B maschile. Non c'è tregua per la Seer Safety. Chiudere l'anno col botto a Verona. Perugia sfiderà i Veneti in campionato e in Coppa. E per il tennis maschile. L'Umbria domina. Foligno, Gubbio e Umbertide non hanno uguali per il tennis femminile. Junior Perugia e Tennis Training Villa Candida-Foligno sugli scudi. Siamo infine allo sport del messaggero. Parliamo di Grifo. Ritorno al passato. La presenza di Guberti è un mistero fino all'ultimo. Ma il Perugia contro il Livorno deve comunque riprendere la via del successo. Bisolin non lo ha messo tra i convocati. Ma dice che è integrato nel gruppo e pronto. A qualità estreme sarà il valore aggiunto. Si gioca alle 21. Spina Zola c'è. Chance a Zapata. E intanto rivoluzione a Gubbio. Supermarket Gubbio. Il presidente Sauronotari ieri sera ha annunciato cinque volti nuovi. Si tratta dei difensori Alessandro Degrassi e Luca Bartoccini. Degli attaccanti Lorenzo Crocetti, Liborio Zuppardo e Jacopo Sciamana. In questa sessione si aggiungono ai già presi Cedric Calombo e Alessandro Cuccia. Ancora lo sport e siamo al Foligno Calcio. Dalla pagina del Foligno preso solo la bate. Ora è caccia agli svincolati. Arcipreti sulle tracce di un difensore e di un attaccante. Esposito va alla Pianese. Chiudiamo come sempre con lo sport dall'area di Terni, Ternana. Tutti con Simone. Dopo le esternazioni del presidente Rosso Verde da squadra a società e tifosi arrivano le prime reazioni ma la famiglia Longarini non ha più intenzione di mettere mano al portafoglio nel mercato di gennaio. Lo sfogo perché? Perché Simone Longarini ha chiesto di essere seguito da squadra e tifosi. Ed era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo il nostro sito trgmedia.it lo vedete l'indirizzo e poi chiaramente nel nostro sito le notizie aggiornate in tempo reale e poi questa sera l'appuntamento con i nostri notiziari a partire dalle 19 sul canale 11. Grazie di averci seguito e dalla redazione oltre che dalla regia vi giunga l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.